Una tecnica per questo nuovo gol? A me ragazzo? Vi ascoltarà che è un secondo tempo così in discesa? Ma guarda, noi il secondo tempo di solito siamo sempre in crescendo rispetto al primo, penso che comunque anche oggi abbiamo fatto molto meglio del primo tempo e penso che si è visto. Oh certo. Si è visto, penso, abbiamo fatto meglio del primo tempo e si è visto. Se hai ancora un gol di destra, tu non ci hai fatto un gol? Il problema è che mi sto preoccupando perché di sinistro non prendo mai la porta, di destra riesco a fare gol, quindi mi sa che sono destro non più sinistro, è quello il problema. L'importante è che fatti. Non esiste l'identità. Hai dato la sensazione di essere, onestamente, di una categoria superiore. Personalmente che cosa ti ha spesso a questo campionato? Ma guarda, io penso partita dopo partita, non voglio pensare assolutamente al futuro, al resto, perché quando l'ho fatto, cioè, ho sbagliato sempre poi. È stato sempre, se pensavo al futuro facevo male, quindi mi godo domenica dopo domenica, cercando di dare il massimo per la squadra e penso che questa sia la cosa più importante e arriveranno sicuramente le prestazioni. Questo penso che sia la cosa fondamentale. Una partita così risale a consapevolezza sui vostri mezzi? È evidente? Ma sì, noi, penso che non serviva comunque questa partita. Noi siamo consapevoli di essere una buona squadra, abbiamo degli obiettivi di gruppo, di squadra e dobbiamo raggiungerli il prima possibile, che è la salvezza. E poi, arrivata la salvezza, tutto quello che viene dopo è guadagnato. Quindi l'obiettivo principale è quello, ma che siamo una buona squadra lo abbiamo sempre saputo. Altre domande? Grazie mille. Grazie.